Il CSI, Centro Sportivo Italiano, festeggia 70 anni in Toscana e lo fa nel modo più bello, con tre giorni di eventi al Parco delle Cascine, nel Cuore Verde di Firenze. Sporting Festa si apre venerdì 8 maggio con un convegno su sport, alimentazione e stili di vita. Nel pomeriggio passeggiate in bicicletta la scoperta delle Cascine, la sera di venerdì la fiaccolata degli sportivi nel segno della pace e della solidarietà da Piazza Signoria a Piazza Duomo, con la testimonianza dell'allenatore Emiliano Mondonico e il saluto del Cardinale Giuseppe Betori. Sabato mattina il tema sarà Nuovo Umanesimo e Sport, guardando al convegno ecclesiale nazionale che a novembre vedrà a Firenze anche Papa Francesco. Domenica mattina la Run for Parkinson's, corsa non competitiva o passeggiata all'Undico Motore aperta a tutti. A dare lo start sarà l'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi. Il CSI è portatore di una modalità di intendere lo sport che ci vede molto in sintonia come Regione Toscana. Non a caso abbiamo fatto la carta etica dello sport, non a caso noi favoriamo tante iniziative che cercano di affermare lo sport non tanto e non solo sotto l'aspetto agonistico ma sotto l'aspetto di trasmissione di valori positivi. Per tutti i tre giorni tanti spazi gioco, animazione per i bambini, l'opportunità di provare sport insoliti o di vivere il calcio, il basket o la pallavolo in modo pulito e divertente. Soprattutto ci saranno tantissime attività aperte a tutti per attività sportiva e organizzate con dei tornei di tutte le discipline sportive, attività libere, ognuno può arrivare alle cascine e scegliere uno sport, qualsiasi sia lì avrà la possibilità di farlo e di farlo gratuitamente. Quindi davvero per noi è un grosso evento, un evento che offriamo alla città di Firenze ma offriamo un po' a tutta la Toscana.